Lungi da noi l'idea di speculare su una vicenda così tragica, appunto l'incidente di ieri sera sulla marina di Ragusa a Donna Lucata, ma ad attenti osservatori della realtà cittadina non possiamo fare a meno di evidenziare che quella rotatoria di Maulli va soppressa. L'offermo del movimento territorio, quale si dicono profondamente addolorati per la scomparsa di una giovane di 25 anni, vittima del sinistro, verificatosi proprio nella zona in questione. Esprimiamo naturalmente il nostro cordone alla famiglia, dicono da territorio, e sottolineiamo che le rotatorie vanno fatte però nei posti giusti. Qui non siamo in presenza di un crocevia problematico in cui si rendeva necessario regolamentare il traffic in questa maniera. La rotatoria non ha qui, lo ribadiamo, alcun motivo di esistere. E lo sosteniamo a ragione veduta, visto che a poche ore dal mortale incidente sono intervenuti i vigili urbani perché un'altra auto è andata a impattare sui cordoli che delimitano la stessa rotatoria. Altri problemi, con esito, per fortuna differenti da quelli tragici che si erano verificati all'inizio. E per questa ragione concludono dal movimento territorio che chiediamo che la rotatoria possesse soppressa e ripristinata il rettilineo come era una volta. Che cosa stiamo dunque aspettando?